Immaginiamo di svegliarci la mattina e scoprire che nel nostro conto in banca c'è lo 0,6% dei nostri soldi in meno. Ok, penserete, non è una percentuale altissima, però comunque ci sono stati sottratti dei soldi senza il nostro consenso. È una sottrazione inaspettata. Questo in realtà è quello che è veramente accaduto in Italia nelle notte tra il 9 e il 10 luglio del 1992, quando i conti italiani subirono quello che si chiama un prelievo forzoso. Fu messo in campo dal governo Amato con un decreto d'urgenza. Il come mai lo vedremo in questo video. Come dicevo, siamo nel 1992 e il Regno Unito sta vivendo una crisi monetaria che sta influenzando tutta l'Europa. In contemporanea, l'Italia sta gestendo un forte flusso di capitali in uscita e una crescita del debito pubblico. Sono i giorni degli attacchi speculativi di George Soros, che abbiamo in realtà già spiegato in un altro video di questo format. Lo trovate qua su e nella nostra playlist. Comunque, la fotografia dello scenario è questa. Escono capitali dall'Italia e vanno in altri paesi. Sale l'inflazione, quindi c'è un aumento generalizzato dei prezzi. Questo in realtà sia in Italia che all'estero. Il debito pubblico aumenta. In generale c'è in corso una crisi economica. Gli istituti finanziari continuano a declassare il debito pubblico italiano. Significa che i titoli di Stato italiani sono ritenuti sempre più rischiosi. E quindi la lira sta faticando a stare all'interno dello SME, il sistema monetario europeo, che vi abbiamo raccontato anche negli altri video, che è quel sistema che ha preceduto l'euro e che imponeva valori predefiniti alle valute. L'abbiamo raccontato sia nel video di George Soros, sia nel video della storia dell'euro. Comunque, spieghiamo meglio questo punto dello SME. Quello che succedeva è che al tempo la lira si stava apprezzando rispetto al marco tedesco. Valeva di più sulla carta. In realtà però questo apprezzamento non aveva riscontro nelle reali economie. In generale la lira valeva troppo anche per l'industria italiana, che si stava ritrovando a fare i conti con una diminuzione dell'esportazione. Quando un paese esporta troppo poco, il valore della sua valuta diminuisce. In una situazione come questa, di disallineamento tra valore percepito e valore reale, i rischi possono essere molti. Tra cui la speculazione finanziaria, come nel caso dei vari short di George Soros, una crisi inflattiva e una crisi sistemica industriale ed economica. Insomma, uno scenario pessimo. Fu così che in questa situazione di forte emergenza, il governo amato scelse di intervenire con una misura drastica. Anzi, una delle più drastiche in assoluto, cioè il prelievo forzoso, che è stato poi raccontato a posteriori dal governo amato come un male necessario. L'Italia si apprestava a varare una manovra correttiva da 30.000 miliardi di lire. E il problema è che mancavano, non si trovavano gli ultimi 8.000 miliardi di lire. Le ipotesi in campo erano varie, sarà quella di alzare le imposte come l'IRPEF, ma alla fine si scelse il prelievo, insieme al ministro Goria, che all'epoca guidava il dicastero delle finanze. Non esiste un dato preciso sul valore di questo prelievo forzoso, ma si stima che abbia generato più o meno 109.000 miliardi di lire. Più o meno ad oggi 57 miliardi di euro per lo Stato italiano. Non male. Tra l'altro, il prelievo forzoso del 92 non fu l'unico del nostro paese. In Italia un'imposta straordinaria sul patrimonio fu introdotta dopo la Prima Guerra Mondiale, con l'obiettivo di effettuare un prelievo straordinario sull'interezza della ricchezza nazionale. Questa imposta colpiva sia le persone fisiche, sia gli enti collettivi, escluse le società per azioni. In realtà furono colpite solo persone e enti con patrimonio pari o superiori a 50.000 lire, valutato alla data fissa del 1 gennaio del 1920. Il prelievo forzoso ha segnato un difficile capitolo della storia italiana, non tanto per l'importo, ma per una sorta di rottura di un patto di fiducia, forse mai stato veramente solido, tra politica e cittadini. Anche oggi, rispetto agli altri paesi, la fiducia in Italia rispetto alle istituzioni è molto bassa. In Italia, infatti, la percentuale di persone che dichiara di fidarsi delle istituzioni è inferiore al 45%. Questo secondo i dati del Gallup World Poll, che studia proprio questo fenomeno. Per dare una metrica di paragone, la media dei paesi OECD è del 52%. Ad oggi il prelievo forzoso è diventato un argomento di conversazione legato ai peggiori scenari. Io non mi fido del governo perché possono rubarti i soldi, io non mi fido della mia banca perché ai tempi accettarono che il governo prelevasse i soldi, e così via. La notizia positiva però è che solamente questi due casi di cui abbiamo parlato sono gli unici casi di prelievo forzoso che conosciamo in Italia. E sono stati fatti in circostanze eccezionali. E anche per questo vale la pena raccontarli, conoscerli e ricordarceli. Detto ciò, secondo voi il prelievo forzoso è un'opzione valida? Ai tempi di Soros non lo fu affatto. Se vi ricordate il video sapete di cosa sto parlando. Però magari adesso è diverso? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Le fonti sono in descrizione e noi, come al solito, ci vediamo presto sul canale di Investiamo con un prossimo video. Grazie.